Paolo Bonolis e Luca Laurenti festeggiano il decimo anniversario del game show in prima serata domenica 11 aprile su canale 5 preda infatti in via avanti un altro pure di sera nel primo appuntamento giocheranno volti noti dello spettacolo che suddivisi in due squadre GFV contro opinionisti risponderanno alle domande per un nobile scopo il Montepremi verrà devoluto al CERS www.adottonangelo.it a un lus che si occupa di assistenza gratuita ai bambini con gravi disabilità Avanti un altro pure di sera 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 Yes So